Torna in Lucchesia ed è la terza volta alla Choco Resort la rassegna musicale Amplagred, il festival d'autore dal vivo, una forma agustica, un solo vero unico. Come lo dicevo siamo alla terza edizione di questo consolidato appuntamento, di resto dal maestro Gian Domenico Anellino. E da questo palcolo sono passati i nomi alti suonanti, quest'anno la chicca, la cilisina sulla torta dell'Amplagred ci sarà sabato 10 dicembre e ci saranno loro i Tiro Mancino. Al telefono Federico Zampaglione, ciao Federico, ben trovato su Radio Bruno. Salve, eccoci qua. Come va? Bene, bene, siamo in giro per il tour e siamo contenti di venire al ciocco. Io ho un ricordo bellissimo di quel posto. Allà quindi conosci il ciocco, è un luogo magico? È stupendo, c'era Video Music, mi ricordo di essere stato ospite in un paio di occasioni proprio a Video Music al ciocco, un posto meraviglioso, pieno di verde. Insomma, quindi tornarci dopo così tanti anni e sapere che c'è un bel auditorium per la musica è fantastico. Davvero perché Gian Domenico Annellino è il maestro che di musica ne sa veramente tanto, fa delle cose fantastiche e non potevate mancare voi la vostra musica, noi qui a Radio Bruno lo diciamo sempre, sono poesie trasformate in musica assolutamente. Ah grazie, grazie per il supporto della radio perché insomma grazie veramente di cuore i pezzi anche di quest'ultimo disco fanno sempre da voi. Infatti i vostri pezzi e i vostri video sono sempre su Radio Bruno, sempre. Stupendo, fantastico. Allora, questo viaggio che farete al ciocco sarà una rassegna musicale molto particolare, dal vivo lo dicevo una forma acustica quindi? Sì, quindi sarà la versione diciamo un po' più intima, più acustica dei nostri brani che comunque si presta molto bene, con le percussioni, insomma il pianoforte e poi ci sarà qualcosa suonato insieme al Grande Annellino che appunto è un chitarrista di impostazione classica ma veramente forte. Sì, infatti. Allora, noi ti aspettiamo in Toscana, t'abbiamo visto pochissimo tempo fa a Firenze, adesso torni ancora, ami la Toscana, diciamoci la verità. Ebbè, come si fa a non amare la Toscana? Come noi amiamo Roma, voi amate la Toscana, chiaro meno. Fantastico. Ti ringrazio Fede, grazie mille, grazie a Federico Zampaglione, aspettiamo il tiro mancino di nuovo in Toscana, stavolta al ciocco, grazie. Benissimo. Ciao, buona giornata. Ciao.